Francesco Monti ha rilasciato una nuova intervista dove è tornato a parlare di Teresa Napugliese e dei suoi progetti lavorativi, eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul gossip, che oggi si interesseranno ad uno dei personaggi più discussi degli ultimi mesi. Di chi stiamo parlando se non di Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi, dove ha parlato di Teresa Napugliese e della sua presunta partecipazione all'Isola dei Famosi. Francesco Monte sbarca sull'Isola dei Famosi, le ultime novità di Gossi privelano che Francesco Monte è tornato a far parlare di sé, dopo la chiusura definitiva con Cecilia Rodriguez, la bella Argentina, che sta vivendo un momento di perfetta intesa con Ignazio Moser. A proposito i due saranno protagonisti di uno scherzo da parte delle Iene, che sarà trasmesso domenica 17 dicembre su Italia 1, intanto Monte si è gettato a capofitto a studiare recitazione per dimenticare Cecilia Rodriguez, tanto da essere visto nel backstage di uomini e donne come possibile tronista. Dalle ultime news si evince, che Francesco Monte ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi, dove ha parlato di molti aspetti della sua vita privata. A proposito ha raccontato di aver perso 12 kg grazie alla cura di Gianluca M.E.C.H., il patron della dieta tisanoraica, che l'anno scorso aveva partecipato con scarso successo all'Isola dei Famosi. Francesco Monte, ritorno di fiamma con Teresa Napugliese, gli news di gossip rivelano che Francesco Monte ha confessato di non essere stato interpellato dagli autori dell'Isola dei Famosi, sebbene sia un'esperienza, che farebbe molto volentieri. Versione che non coincide con quella divulgata dal settimanale Chi, che lo dava in partenza insieme al principe di Savoia. Inoltre l'ex Cecilia Rodriguez ha rivelato che a marzo sarà sugli schermi di Canale 5 con una fiction dal titolo Furore 2, dove interpreterà il migliore amico di Massimiliano Mor. A proposito ha detto di ispirarsi a Claudia Santamaria, sebbene non sia nuovo al mondo dello spettacolo, in quanto ha partecipato a Don Matteo accanto a Terence Ilemino Frassica. Durante l'intervista il modello non ha voluto toccare il tema di Cecilia Rodriguez, mentre si è soffermato sulla storia con Teresa Napugliese. Come ricorderete i due giovani si erano scelti all'interno del programma di Uomini e Donne, ma la loro storia era naufragata poco dopo per varie incomprensioni. Per quanto riguarda un suo presunto ritorno di fiamma con l'extronista, ha spento ogni entusiasmo dei fans in quanto l'è sposata ed è mamma di un bambino. Infatti ha precisato che tra lui e Teresanna non c'è stato alcun contatto da ben cinque anni, altrimenti non sarebbe stato accanto alla Rodriguez per altri quattro. Infine la pugliese è diventata una delle opinioniste di pomeriggio 5, insieme a Karina Cascella, lancerima rivale del clan Rodriguez. Per altre notizie di gossip vi basterà clic. Per altre notizie di gossip vi basterà clic. Per altre notizie di gossip vi basterà clic. Grazie a tutti.